La cornice del Vangelo di questa domenica delle nozze di Cana è la cornice del matrimonio. Il matrimonio e le nozze sono un simbolo molto importante nelle scritture di Israele. È Dio lo sposo del suo popolo, è il Cristo lo sposo della sua chiesa. In questa festa nuziale dove non compaiono i nomi degli sposi allora la simbologia è evidentissima, il Cristo è manifestato come lo sposo della sua chiesa, colui che porta a pienezza la gioia e i desideri profondi del nostro cuore. In questa cornice nuziale l'Evangelista Giovanni ci mostra anzitutto una carenza, manca qualcosa, manca il vino. È la madre, sottolinea il testo, la madre di Gesù a rendersi conto di questa carenza ed è la madre a intercedere presso il suo figlio ed è la madre che indica ai servi del banchetto di fare ciò che Gesù avrà indicato. È la madre allora che ci indica questa domenica ad ascoltare Gesù, a fare la sua volontà, applicare la sua parola nella consapevolezza che è lui la pienezza di tutto ciò che noi cerchiamo. Nella economia del Vangelo di Giovanni questo racconto evangelico è particolarmente significativo. Il testo ce lo ricorda verso la fine, quando appunto il Cristo inizia a manifestare la sua gloria, dà inizio ai segni. L'Evangelista racchiude questo gesto evangelico in due parole, in due concetti, il tema dell'ora e il tema del segno. Il tema dell'ora non è ancora giunta la mia ora, risponde Gesù alla madre. È tutto il grande discorso del compimento dell'opera di salvezza del padre attraverso Gesù. In Gesù si manifesta l'ora della mia salvezza, quell'ora che è sempre presente in Cristo si compie la salvezza per la mia vita e per la vita del mondo. E poi il tema del segno è molto interessante. Gesù pone questo gesto come il principio dei segni, non soltanto il miracolo, ma proprio un'altra categoria. Il miracolo, l'evento prodigioso, di per sé è qualcosa che può colpire l'attenzione di chi guarda, ma non per forza spinge a una conversione, a un cambio di vita, a una interiorizzazione di quello che il Vangelo dice alla mia vita. Gesù è interessato non tanto all'evento in sé, ma quello che l'evento può portare nel cuore delle persone. Allora ecco che il tema del segno è quello che Gesù vuole porre, qualcosa che da un lato colpisce l'attenzione di chi lo sta guardando, muovendo alla conversione il cuore di chi guarda, di chi ascolta, perché nel segno si manifesta la gloria di Cristo. E allora vogliamo chiedere per noi in questa domenica che attraverso l'accoglienza del Vangelo, attraverso la celebrazione dell'Eucarestia, dove l'altro grande prodigio si compie, dove in questo caso il vino è trasformato nella sostanza del sangue di Cristo, dove appunto il tema di Cana diventa il tema dell'Eucarestia, chiediamo che sia manifestata in noi la gloria di Cristo, questa gloria che trasforma la mia vita, che l'assume, la prende completamente per sé. E chiediamo anche lo stesso sguardo di Maria, della madre, la madre che si rende conto che manca la gioia, la madre che intercede presso il figlio e con la sua preghiera e la sua azione permette che Cristo sia pienezza di tutte le cose. Questo è anche il compito bello, credo che la Chiesa sempre ha a disposizione, come compito di gioia, intercedere con la sua preghiera e operare con le sue azioni, perché il Cristo sia pienezza di tutte le cose. Lo sguardo e l'impegno della madre diventino oggi lo sguardo e l'impegno della Chiesa, lo sguardo e l'impegno nostro nelle azioni quotidiane delle nostre giornate.